Il primo interrogatorio era scattato subito dopo la pausa estiva. Sergio Staderini, di fronte alla Digos, aveva però deciso di non rispondere. Adesso, negli uffici della Questura, è stato convocato un altro protagonista del caso Coingas, il commercialista Marco Cocci, indagato per peculato per le presunte consulenze d'oro. L'interrogatorio di fronte alla Digos, delegata dalla Procura, è in programma per il prossimo 10 ottobre, ma tutto lascerebbe supporre che anche il professionista retino potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Una strada che a questo punto potrebbe essere percorsa anche da tutti gli altri indagati, in attesa di conoscere gli elementi in mano all'accusa. L'attesa, infatti, è tutta per il resoconto della Digos, al quale gli inquirenti hanno lavorato tutta l'estate, analizzando i contenuti dei PC, dei telefoni, chat e tutti i documenti che erano stati posti sotto sequestro lo scorso luglio. Nelle prossime settimane, poi, potrebbero essere convocati anche gli altri indagati, dall'assessore al bilancio Alberto Merelli, all'attuale amministratore unico Franco Scortecci, sino alla contabile Mara Cacioli, e poi ancora il presidente di Estra Francesco Macri e il primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli. La procura, infatti, contesta consulenze ritenute non necessarie, affidate a professionisti esterni, per un valore di 440 mila euro, una appunto al commercialista retino per 140 mila euro, ed un'altra allo studio legale di Firenze Olivetti Rasona per 300 mila euro, compensi abnormi, dunque, secondo chi indaga, per attività irrilevanti.